Pezzetti di plastica nel panettone, una sorpresa amara per una famiglia padovana che aveva presentato denuncia. Per questo episodio sono finiti sotto inchiesta il legale responsabile della cooperativa sociale, socio della stessa coppia e responsabile del prodotto venduto. Un panettone talmente famoso apprezzato anche da Papa Francesco. La vicenda risale al 2015, quando tagliando il dolce, la famiglia padovana scopre dei pezzi di pellicola trasparente e morbida. La procura ottiene un decreto penale di condanna a carico dei responsabili della coppia produttrice. 900 euro di ammenda ciascuno, ma gli interessati hanno scelto il processo per chiarire tutto.